E sino al 25 luglio qui all'Aquila ci saranno, come vedete nel cartello alle nostre spalle, i test TalkMed. Non c'è la fila alla quale eravamo abituati per i test di medicina negli anni scorsi perché sono cambiate le modalità. Ci sono tre turni programmati durante il giorno, il test viene fatto da gruppi di 20 al massimo 30 persone, tutto rigorosamente su PC e la particolarità che possono partecipare anche studenti che fanno il test in altre tenei per poi però utilizzare il titolo qui nella Facoltà di Medicina dell'Aquila. Dunque non ci sono più le lunghe file, però tanti i ragazzi, gli aspiranti medici che stanno partecipando ai test di ingresso di medicina. 213 posti disponibili nella Facoltà di Medicina dell'Atene Aquilano e tanti ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia per tentare l'accesso alla prestigiosa facoltà universitaria, ma per la prima volta l'università si confronta con una modalità diversa. I test si chiamano TalkMed, si è già la seconda sessione, questo è il sistema che ha preso il posto del tradizionale test al quale si era abituati. Ad aprile parteciparono 750 persone ai test per l'accesso, ora questi test arriveranno sino al 25 luglio. Si tratta di tutti i test al PC e che stanno impegnando le aule tra la Facoltà di Roio e Coppito. A misurarsi con le prove sono in 780 questa volta. Fuori l'università non c'è la folla degli altri anni perché si fa tutto in gruppi di 20-30 persone al massimo, spalmati su più turni e più giornate. Il cambiamento nelle modalità di accesso con i test c'è stato nel 2023. Non è l'unico test che si fa una volta l'anno. Sono diventati tutti test online. I test per medicina, dentoiatria e inoltre sono uguali, la gradatoria è unica. Ci sono 50 domande anziché 60. Il test si potrà sostenere due volte l'anno. A questi Talk possono partecipare gli studenti del penultimo anno e ultimo anno delle scuole superiori italiane e estere, oltre ovviamente a chi ha già il diploma. Il 5 settembre uscirà la gradatoria sul silo del Cineca.